Saranno sparpagliati in tre differenti scuole gli studenti dell'Istituto Superiore Cotugno dell'Aquila, chiuso perché in possesso di indici di vulnerabilità sismica troppo bassi. È questa la decisione presa da Angelo Caruso, neoletto presidente della provincia dell'Aquila, insieme al sindaco Biondi e al capo della struttura tecnica di commissione, Giampiero Marchesi. Non saranno previste dunque realizzazioni di nuovi edifici prefabbricati, non ci sono i soldi nei tempi necessari. Questa decisione però non soddisfa il Comitato Scuole perché anche le tre scuole individuate sono risultate essere in possesso di indici oggettivamente lontani da quelli di effettiva sicurezza. Gli studenti saranno dislocati nel polo scolastico di Colle Sapone, ovvero negli istituti da Osta, Colecchi e Bafile. Per lunedì 7 agosto è prevista l'ufficializzazione della decisione, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili in termini di aule libere e spazi utili nei vari istituti. Il Comitato Scuole Sicure dell'Aquila continua a chiedere che si elabori una soluzione al più presto per tutte le scuole aquilane. L'eventuale decisione di considerare la ricollocazione degli studenti dell'Istituto Cotugno nelle diverse sedi di altri istituti non può considerarsi una reale soluzione.